C'è Aldo Garzia, giornalista e scrittore collegato con noi al telefono. Garzia, buonasera. Buonasera. Partiamo dall'ultima considerazione, quella che arriva dal governo venezuelano nel pomeriggio. Una accusa pesantissima. Chavez si è ammalato perché qualcuno lo ha avvelenato. È un'accusa credibile, sostenibile? Ma si sa su questo davvero fantapolitica. Si sapeva che Chavez fosse affetto da un cancro. È stato operato tre volte a Cuba. Hanno tentato disperatamente di salvarlo. Stasera questa notizia non ci coglie di sorpresa. Quando è tornato qualche giorno fa a Caracas, nella sua patria, noi osservatori di cose latinoamericane abbiamo intuito che era un ritorno per morire a casa sua. Adesso questa accusa del governo venezuelano, vedremo se ci sono delle prove, verranno fuori, ma a caldo mi sembra francamente fantapolitica. Fantapolitica. Infatti arriva subito la risposta da parte del Dipartimento di Stato americano, notizia che diamo adesso in diretta, che ha definito assurde le accuse di un complotto per la morte di Ugo Chavez, dichiarazioni fatte da Maduro che sono assurde, le rispingiamo totalmente. Ha detto un portavoce, commenti arrivati poco prima dell'annuncio ufficiale della morte del leader. Cosa lascia Chavez, Garzia? Lascia uno straordinario movimento popolare nel Venezuela. I dati sociali dicono che da quando lui è al governo, bisogna ricordare che al governo c'è stato democraticamente, vincendo sempre tutte le prove elettorali, c'è stato un miglioramento delle condizioni di vita degli strati più popolari della popolazione. Lascia quindi delle conquiste, lascia una speranza di cambiamento, ha vinto anche le ultime elezioni pochi giorni prima di partire poi per l'ultima operazione contro il cancro a Cuba e lascia anche un movimento indipendentista che si è sviluppato nell'insieme dell'America Latina. Chavez era uno dei nuovi leader dell'America Latina che voleva unificare politicamente ed economicamente questo continente, affrancarlo dal tradizionale rapporto con gli Stati Uniti. Quindi lascia un grande vuoto politico, dentro il suo paese ma anche fuori. Cosa rimane adesso di quel famoso asse del male, chiamiamolo così, che gli Stati Uniti per anni hanno detto di voler combattere, anche se poi, come sappiamo, la maggior parte del petrolio che viene da Venezia viene occupato proprio dagli USA. Sì, Venezia è il secondo paese produttore di petrolio da cui gli Stati Uniti prendono risorse. Che cosa lascia? Io penso che all'interno del Venezuela ci sarà un'ondata emotiva a favore del chavismo. Se verranno presto convocate delle elezioni, la mia previsione è che sull'onda emotiva della morte di Chavez ci sarà una vittoria del suo partito socialista alle elezioni. Certo è difficile sostituire un personaggio come lui. Il paese è l'asse del male, Venezuela-Cuba, ma Cuba è una piccola isola che subisce un anacronistico blocco economico da 50 anni. Le ultime notizie dicono che Kerry, segretario di Stato americano, ma anche Obama, pensano di cancellare Cuba dalla lista dei paesi pericolosi. sarebbero bene, sarebbe un segnale di disgelo, anche per evitare che la morte di Chavez possa creare una destabilizzazione politica dentro il Venezuela. A proposito di politica, è veramente Maduro adesso il suo Delfino, il candidato alla prossima presidenza? O è presto? Io penso di sì. Penso che Chavez lo avesse già indicato in Maduro il suo successore, è stato ministro degli esteri del governo di Chavez, conosce la politica estera. Io mi auguro che nel mondo prevalga sempre il dialogo, il confronto allo scontro. E quindi spero che anche la morte di Chavez non provochi una destabilizzazione politica. Ecco, da questo punto di vista, Maduro, quali posizioni di politica estera ha rispetto a quelli di Chavez? Ma io credo che ci sarà sicuramente una continuità, un privilegiare il rapporto con Cuba, con la Bolivia, con il Brasile, l'Argentina, con quei paesi progressisti che hanno cambiato la realtà politica dell'America Latina negli ultimi anni. Pensiamo al Brasile di Lula che ha iniziato questo cambiamento. Argentina e Brasile sono paesi che sono afflitti meno dalla crisi rispetto all'Europa. I tassi di crescita di quei paesi vanno avanti bene. Penso che Maduro possa conservare un rapporto privilegiato del Venezuela con queste nuove realtà. e mi auguro anche che l'opposizione interna al Venezuela accetti la sfida democratica di nuove elezioni. Nell'area sudamericana questo cambia qualcosa nello scacchiere o proprio perché la linea di Maduro in un certo senso è continua rispetto a quella del Presidente Chavez rimarrà tutto invariato? Ma no, sicuramente ci sarà un contraccolpo. Chavez muore a meno di 60 anni, era diventato un leader di questo nuovo vento progressista, seppure populista, che soffia in America Latina e niente può essere come prima. Sicuramente ci sarà un vuoto politico, Chavez è un personaggio insostituibile nella sua caratura, anche molto discutibile nelle sue scelte, nel suo modo di essere leader. Maduro sembra una persona, diciamo, meno lideristica, più ragionatore, meno leader, meno populista di Chavez. Quindi anche da questo punto di vista è un po' imprevedibile capire cosa accadrà. Bene, grazie Aldo Garzia, grazie per aver dipinto un quadro completo della figura di Chavez e soprattutto dello scenario che adesso si va prospettando, non solo in America Latina. Grazie.